Ah, 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 uh, 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 uh. Purtroppo le pensioni sono sempre sotto attacco. I governi che si sono succeduti negli ultimi decenni hanno sempre deciso di ritoccare le pensioni. Certo, non si possono tagliare le pensioni senza provocare una sollevazione generale, ma si è preveduto ugualmente a castigare i pensionati con il blocco della perequazione. Vale a dire che il costo della vita aumenta e le pensioni restano ferme, col conseguente progressivo impoverimento delle famiglie. Tutti ricordiamo che il governo Monti sancì il blocco della perequazione per due anni, ma poi i governi successivi hanno procrastinato questo blocco. Bene hanno fatto dunque i pensionati Will del territorio a riunirsi per un momento di riflessione sulla situazione pensionistica ed un momento di organizzazione. L'organizzazione è cosa importante per avere un sindacato forte e capace di difendere gli interessi dei propri associati. Dunque i pensionati iscritti alla Will si sono riuniti qualche giorno fa nell'hotel Manhattan a Sulmona per avviare le procedure finalizzate all'undicesimo congresso Will pensionati. Si è trattato dunque di un'assemblea pre-congressuale dei pensionati Will del territorio Sulmona-L'Aquila. Durante l'assemblea si è provveduta ad eleggere i rappresentanti della Will l'Aquila-Sulmona che parteciperanno all'undicesimo congresso del territorio. Noi stiamo sciogliendo in questo momento le leghe zonali, cioè fino a questo momento abbiamo una segreteria provinciale che riguarda l'Aquila-Sulmona e l'Avezzano. Da questo congresso vengono sciolte le zone per creare le STU, un po' un discorso tecnico interno al sindacato. Entro il 6 marzo celebreremo il congresso che andrà a individuare la STU di Avezzano e la STU di L'Aquila-Sulmona. Entro ottobre, avendo Sulmona raggiunto i numeri tecnici richiesti, anche Sulmona sarà considerata STU e quindi la Wilp di Sulmona sarà autonoma a tutti gli effetti per agire sul territorio nel modo più giusto e più concreto. Parliamo delle pensioni in generale. Le pensioni sono sotto attacco sempre. Ogni governo che arriva ci mette le mani. Qual è la vostra idea? Che cosa volete rappresentare a questi signori che oggi si presentano per entrare nel Parlamento? Cosa la Wilp pensa di proporre per le pensioni? Allora, innanzitutto la cosa più semplice, visto l'andamento dei governi che ci stanno attualmente andando via, questo ultimo è quello che arriverà, sarebbe la cosa che è opportuna quello che è successo per i lavoratori dipendenti. I famosi 80 euro che sono stati dati a tutti i lavoratori dipendenti che non superano un certo reddito potrebbero essere applicati altrettanto ai pensionati, sempre rispettando i limiti di reddito, ma sicuramente molti pensionati rientrerebbero in questo assegno. Forse troppi. Forse troppi e questo è l'unico problema. Probabilmente si potrebbe arrivare a una contrattazione magari non di 80, ma magari di 50, però risolverebbe enorme, perché se noi andiamo a fare un passo indietro, andiamo a fare mente locale sul fatto che addirittura per i pensionati è stato imposto uno stop all'aumento annuale che doveva scattare rispetto all'inflazione che si creava. Invece non è accaduto che il blocco già da molti anni della cosiddetta perequazione, quindi il costo della vita aumenta e le pensioni rimangono ferme. Questo purtroppo è l'inconveniente grave per i pensionati. Esattamente. Allora, siccome fra l'altro noi notiamo che l'inflazione ultimamente sta lì, ferma, per cui anche avere aumenti rispetto all'inflazione per un pensionato sarebbe ridicolo perché parliamo di 3-4 euro al mese. Ecco che a quel punto potrebbero fare coloro che sono intenzionati ad andare a governare una proposta in questo senso. Sicuramente il pensionato ne trarrebbe giovamento, beneficio e probabilmente potrebbe pensare anche a chi dare il voto. Cioè qui loro parlano di miliardi, ma qua il pensionato sta contenta di pochissimo, per cui è su quello che bisogna agire. Perché poi i pensionati, non ce lo scordiamo, sono coloro che reggono i giovani, i nipoti, sono coloro che fanno i sacrifici per tutta la famiglia e finché ci sono i pensionati, e viva Dio, qualcosa e qualcuno va ancora avanti. Ed ecco perché è importante poter intervenire economicamente proprio su un pensionato. Certo, ci sono problemi anche di carattere sociale che vanno affrontati. Qui non parliamo della sanità, non parliamo delle file che si fanno per quanto riguarda gli uffici pubblici e compagnia, anche su quello bisogna intervenire. Però già aumentare qualcosa di consistente a una pensione sarebbe ottimale. a Ah, 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 ah Oh, 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 oh